Dall'alba di lunedì 11 novembre, in Torino e nell'Interland torinese, oltre 60 carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino, su richiesta dalla locale Procura della Repubblica. Nei confronti degli appartamenti, una banda criminale dedita ai furti di rame al successivo riciclaggio dello stesso. Una decina alle persone destinatari dei provvedimenti restrittivi. Associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, riciclaggio, nonché furto in concorso, i reati a vario titolo contestati dall'autorità giudiziaria. Le indagini dei militari dell'arma hanno accertato furti di migliaia di metri di cavi di rame per un valore di oltre mezzo milione di euro, avvenuti prevalentemente ai danni di impianti fotovoltaici del nord e centro Italia. I carabinieri della compagnia Torino Oltredora stanno altresì sequestrando nel torinese un'azienda attraverso la quale gli indagati riuscivano a stoccare e poi a ripulire l'oro rosso. Grazie a tutti.